Camper Club La Granda, uno dei più importanti club di camperisti italiani, tra l'altro piemontese DOC, che annovera ben 1400 iscritti. Sì, devo dire che il Camper Club è nato in provincia di Cuneo, 29 anni fa, un altro anno facciamo infatti la festa dei 30 anni, e da sempre abbiamo promosso quello che è il turismo itinerante e non solo il turismo ma anche l'aggregazione delle persone. Abbiamo comunque poi, oltre il Piemonte, abbiamo oggi 15 sezioni a livello italiano sul territorio, ogni sezione diciamo che pubblicizza il proprio territorio, abbiamo raduni di ogni tipo, raduni di tipo gastronomico, culturale, e cerchiamo con questo tipo di turismo di invogliare appunto il movimento e le persone a frequentarci. Un club veramente storico che vuole continuare ad aprire le sue frontiere anche a tanti giovani, vogliamo questo cambio di guardia? Certo, noi siamo aperti certamente ai giovani, organizziamo raduni anche per loro, ci sono chiaramente i nonni che li accompagnano a volte, però stiamo cercando proprio specialmente negli incontri, Carnevale, Pasqua e Capodanno, stanno effettivamente di nuovo arrivando famiglie con giovani ed è il futuro del turismo plenare, è loro, quindi noi cerchiamo di inculcargli questa passione in modo che possano poi, e gli auguriamo di poter proseguire come chi ci frequenta oggi che ha qualche anno di più. Quindi vogliamo nonnini ma anche giovani con bambini al seguito? Certo, certo, anche perché nel nostro mondo c'è la famiglia al completo, ci sono, ne parliamo sempre, ci sono le tre generazioni, i bimbi, il papà e la mamma e i nonni, e quindi il nostro motto è proprio accogliamo tutti e cerchiamo proprio di incentivare chi appassionare questa vita, questo turismo plenare nel quale io partecipo da oltre 30 anni che a mio avviso non tornerei mai indietro, è una cosa incredibile per conoscere, per girare, eccetera, il nostro sforzo è proprio quello, quindi cerchiamo di fare quello per cui siamo nati tanti anni fa e proseguire in questa attività. Avete qualche iniziativa, qualcosa che bolle in pentola imminente? Iniziative, noi abbiamo un raduno praticamente quasi ogni domenica e un altro anno ci stiamo preparando a festeggiare i nostri primi 30 anni con una bella festa ad asti nel cuore un po' della granda. Grazie.